Fettuccine al pesto di zucchine e cipolle caramellate. Ecco una ricetta semplice e veloce, ma dal gusto inconfondibile, le fettuccine al pesto di zucchine e cipolle caramellate. Un primo piatto primaverile che saprà conquistare il palato di tutti gli amanti delle verdure. Una ricetta fresca e leggera in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Per preparare le fettuccine al pesto di zucchine e cipolle caramellate occorrono pochi ingredienti. Per prima cosa prepara il pesto di zucchine. In un mixer metti zucchine, foglie di basilico, prezzemolo, aglio, pinoli, parmigiano grattugiato, sale e olio. Frulla gli ingredienti fino a ottenere una consistenza cremosa. A questo punto, lascia da parte il pesto e concentrati sulla cipolla. Taglia a rondelle una cipolla rossa e falla stufare in padella con un cucchiaio di olio, per qualche minuto, finché non diventerà traslucida. Aggiungi un po' di zucchero e lascia cuocere ancora per qualche minuto, finché non diventerà dorata e caramellata. Ora che il condimento è pronto, cuoci le fettuccine in abbondante acqua salata, scolale al dente e versale in una padella. Aggiungi un po' d'olio e il pesto di zucchine preparato in precedenza, mescola e lascia cuocere per qualche minuto. Servi le fettuccine al pesto di zucchine e cipolle caramellate ben calde e completa il piatto con una spolverata di prezzemolo tritato. Un piatto delizioso, che conquisterà tutti! Grazie! 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 Grazie!